Buonanotte Ciao a tutti ragazzi sono Dan e benvenuti nella 51esima puntata della serie NFM Oggi siamo qui con Grimo ciao a tutti Grego ciao a tutti Si sono già tutti Allora stiamo trinciando Abbiamo noleggiato la trincia La FR850 o 950 8 credo 850 70 70 780 Ah e perchè dici 70 No è 780 Ma perchè devi spingermi che perdiamo tutto Ma che stavo facoltà Prima mi sei finuto tutta Essenzialmente abbiamo anche comprato una seminatrice nuova da mais per finire prima perchè eravamo stufi Eri stufo Eri stufo Ero stufo Farmanem Te l'ho sembrato del video di quello che cambia che mette la sesta con il cambio e cinque marci che fa Armanem? No Però io ho mandato a Grego il video di quello là che c'è di nuovo quello che fa Che suona con la chitarra Rii-pi-ti-pi-tu-p-ti-ti-ti-tu-tu-tu-tu-tu-pitututututututupa Mi piace troppo quel video Mi fa spaccare Come quello Voi a giocare con i bambini dei vicini Sono bravi Arriva lui e li investe con la macchinina È vero è vero Oggi ero tipo al lavoro Era in un momento dove non avevo niente da fare Mi sono messo a guardare Instagram Ho trovato È presente quando apri la lente Che trovi un video che fa ridere Magari scorri giù E li trovi tutti simili Ho trovato tutte cose che facevano spaccare Da ridere Le ho distribuite un po' Le ho mandate un po' a te Un po' ad altre persone Qualcuna anche a Samu Per non mandarle tutte alle stesse persone E io ho spiegato due da ridere Mandamene pure tu Tanto io le guardo sempre Magari ti rompo non lo so 89 Volevo mandarti 737 con le ali Da gabbiano Quelle fatte tipo Però poi ho detto no Ma Samu ha detto 89 Sì Che cazzo me ne frega di 89 89 Abbiamo 60 anni in due Oh era già un anno e mezzo fa 62 in due Era un anno e mezzo fa adesso Oggi un anno e mezzo fa Circa era il 7 di febbraio Che siamo fatto 31 anni Ma se ne ha 31 Non ne ha 31 E quanti ce ne avrò ben 44 Ma con me Ma quando compi gli anni Di 7 di febbraio Che state a fare ecco Vole via le mani Bastardo Non dire quella parola Che siamo in puntata Eh dai Eh oh Samu Stava troppo lontano Stai dappertutto O meno di sotto la trincia Eh c'è anche le ruote singole Se ci avete fatto caso Samu ha cambiato la ruota Un po' c'è la singola Ah perché Il suo ruote è tornato E' facile Vedi le doppie ruote Vabbè mette un giallo Pista nemmeno C'è ragione No non ti mettere qui Che poi cambia Eh quando è pieno Cambia da solo Ma quando andate Scusa Più di me Ah no è simo che va più di me Simo a 10 Non andare a 24 Sì Ah mi pizzica Eccolo Eh oh C'era il gran turco Che Mi sa salato Oh mi sa La buona mi sta la fibra Mi pare Alla fabbrica Qua Aspetta Ma come si vuole Tutto Te ne accorgi? Scusa Era un lago Movi Dovresti avere uno scavo Davanti casa Samu per averlo Parte no Lo sento Perché deve venire Il testo Oh ma Mi è venuto stamattina Aspetta Ma sveglia Samu ti hanno scavato Davanti casa Sì o no? No Ma guarda Perché da me Non c'è la fibra Che ti arriva proprio a casa Tipo Ho la cabina Un chilometro E mi fa l'allaccio Tipo là Ma tu non sei Tipo in mezzo a un campo Sì Sì C'ho tipo C'ho la gialla Che Non ho capito Niente Lascia perdere Proprio In te ragione Sì Cioè Non è che mi deve portare la fibra Poi il cavo Dentro casa Come lo sverso Se vuoi te lo porto Io al lavoro Ce ne abbiamo tante rocchette Tanti tanti rotoli No No Lo sappiamo Lo sappiamo A un palco di fibra Tipo Grego vuoi incollarti Alla fine Forza Aspetta 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 Non c'è boccavo Non c'è boccavo Eh non c'è boccavo Che grego Ma hai finito Di esserne in piedi Sempre Come mai Come mai Comunque ragazzi Abbiamo fatto cambio Di biogas Abbiamo venduto Quello da sotto Il biogia E abbiamo preso Il nord Perché tutte le cose A nord A noi piacciono di più Dato che già c'è Samu Che è terrone qua E simmo no Simmo più a nord Di Samu Mi sa Sarà 200 metri Vabbè E E no Essenzialmente perché Abbiamo comprato anche Le trincee che sono Circa 50.000 Di cui erano 45 Una cosa del genere Qua No questa 40 30 40 92 93 Perché Queste qua sono chiuse Quelle là sotto no Tutto qua Bon 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 Ma perché siete assieme Voi due Ma perché Avete visto Sì Guarda caso Ti stavo proprio Rimpendendo Io vado a sinistra Io vado a sinistra Alla mia sinistra Ok No 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 stupido Andiamo avuto mai a server disco Di sicuro No basta Rutto No 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 Non ha più senso Tanto No 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 Non rombo più Birthday Già ho perso speranze Ci hai perso le esperianze E lo chiedi a me? No Non me ne frega di chiederlo a te È come chiederlo a un muro Praticamente Ruttiamo? No Chi è che ha allungato la trinci Eh? Io probabilmente Ma io Quando ci sarà da trinciare qua dentro Sì dove sì Trinciamo Trinciare Trinciare qua dentro E che ne vale più no? Quando ci sarà da pistare qua dentro Lascia perdere Come bigiore l'uva Però coi trattori È più in grande Eh Adesso in giuria Cominciare a combattare Se no è un buon casino Ma se cominciamo a combattare adesso Dobbiamo star fermi Ma questo è un campo È l'ultimo? No c'è ancora il più grande da fare Ce n'è uno che è più grande Di tutte e due messe assieme Sì? Sette mi sembra il più grande Di tutte e due messe assieme Ora te lo dico subito Allora Due e novanta Tre e settantaquattro Quindi fa 5 e 64 Ma che stai dì? E qui l'altro quando fa Tre e settantaquattro Io ho fatto il 20 Ah ma ne abbiamo tre in tutto giusto? Eh più o meno sono grandi uguali Tre in tutto sono E cammina Tre in tutto sì Non mi fa perdere il tempo Sì tu che lo fai perdere a me Non è vero Tu non c'hai il tempo A te ma non vale nulla Prima Prima era Cioè dovete sapere Che c'era Samu Che tornava C'erano Simu e Samu Che si sono incontrati per la strada Tipo io e Simu adesso Samu gli ha lampeggiato a Simu E Simu fa Eh non mi fa perdere il tempo Ma devi dire che sono fatto prima Simu anche mi ha lampeggiato Simu te voglio bene anch'io Anche se è un 89 Ti voglio bene lo stesso Ci vogliamo muovere tutti No aggrego non gli vuole bene nessuno Sai perché? Perché è un N.D.M Non un N.D.M New Generation Mobile Sì Ma che Perché? Ma no ma non so Esiste ancora N.G.M Alla mia Quando ero tipo Più piccolo io C'era la pubblicità anche in tv New Generation Ma tipo c'era quello lì che si apriva Tipo il quadratino Sì tipo l'exper Il Blackberry Del genere No no ma l'N.G.M era tipo un quadrato Tu tipo la privi Ma perché qua ne fa così poco che hai inzilato? Ci sei che ne avete concimato Ma come c'è la ratura richiesta? Ma che fè 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 Perché c'è la ratura richiesta? Eh da poi mai c'è la ratura richiesta Eh sì ma non su tutto il campo fra Tutti i campi sono con la ratura richiesta Eh ma quelle stiamo Ma perché? Ah sai cos'è? Se vai in terra non Sono pirla io probabilmente Eh? Sono pirla io? Sì Bon Ecco Ma peso No Che è sta roba? Tu Tu continua da doveri andare dritto Perché dovete sapere ragazzi Che ho mandato sul tempo Però tipo Era venuto in questo stato qua Che era tipo le 11 di sera Era buio E quando ho messo le 9 del mattino Quando ho alzato ancora il tempo Per far venire Che sei fatto? Tutto vanno Con una droga Eh ricominciamo Simo No era tutto perfetto Avevamo concimato Tutto preciso perfetto Poi ho detto facciamo così Perché non mi piaceva trinciare Che era giallo Ho detto facciamo così Così rimane verde Ed è giorno E quindi l'ho fatto tornare indietro di uno stadio Però ho tolto Ho messo che Sta roba della ratura Essenzialmente Sono qua basta di stanno? Sì sì E non l'ho fatto posta Non ci ho pensato Non me ne sono accorto A parte che non so se cambiava qualcosa Sinceramente A me Ma veniva facendo un po' Cioè ma adesso Il venti È da raccogliere Eh? Pure il venti L'hai fatto? Eh il venti era Da ratura richiesta Ora l'ho tolta Sì ma non Non hai rimesso tutto No Eh un po' Se l'ho perso sempre Eh vabbè pazienza Ora lo metto Il venti Lo metto a Flow Così eh Dopo andiamo a mettere Sala dopo Wander Eh sì No Dopo il nice No Almeno non me lo so Che cavolo Sì Guarda la mappa Non me la segna Eh si può essere Disattivato Ah può essere Disattivato Eh mi pare Se può essere Disattivato Ah forse lo attiviamo Un po' Ah allora Allora era inutile Che io Rifacessi il campo Perché Il giro attorno L'avevamo già fatto? Eh sì E allora pistalo Dai uguale Andiamo a casa Lo faccio tipo così Aspetta Ma chi se ne frega Un po' di più Un po' di meno Non muore nessuno È un po' Una schifezza Sì Non ci voleva Pazienza Cioè non voleva essere Un cito I campi ce li siamo Seminati tutti Tant'è che vi ho detto Che ho scomprato Anche una seminatrice nuova E E erano tutti concimati Perché ci abbiamo Andato il liquame E poi Ci siamo passati Quella seminatrice Con dentro concima Quindi Non abbiamo citato Niente Era solo davvero Perché era venuto pronto Che era buio Di questo stadio qui Che era buio Sono pieno Simo preparati E niente Quindi ho detto Faccio venire giorno Giorno è venuto Ma era giallo E allora L'ho fatto tornare verde E mi sono dimenticato Di mettere Che poi non abbiamo perso niente Perché Si era disattivata La retura richiesta Non ci ha fatto perdere niente Però Pronto E quando Quando lì Lì ti saremo perso Niente Perché era disattivata La retura richiesta Quindi anche se il campo Era rosso Ah quindi anche se lo segnava Era normale Sì E se me ne fosse accorto Tipo un minuto prima Non facevo tutto Sto macello Su sto campo Soppa mia Che stessi ho detto Eh se stavi zitto Sto a te zitto Pure tu No me ne pari Ne faceranno poco Però i te ne ne fa poco Solo il campo di là Una passata Simo Era pieno Guarda quando c'ho A perrembisse Perché ne fate meno Ecco Ma che ti staccia Ma Simo Si riempie Con una passata Te Simo Si è riempito Con un terzo di campo Se stanno di dentro Quindi da poi Arriamo E facciamo E adesso Fina Attiviamo La retura richiesta Adesso no Che se non vorrei fare così Ah si 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 Quanti litri ci sono In questa trincea 700 Eh un milione Lo superiamo tranquillamente Mi sa Ma proprio Tranquillamente Un milione e mezzo Più meno Anche più Si ho fatto Mezzo un milione Solo quello che ha bitolato Lo vendi Ah Si 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 Cioè no Forse mezzo milione No però Penso che un milione e mezzo Li saperemo Dopo Con bassi di gambe Portarla bene Organizzata Un po' recentemente Eh Portarla a vendersi C'abbiamo il digestore A 30 metri Tra la trincea Allora mettiamo Mettiamo i nastri Che ti piace dando a te Porca mia C'abbiamo una palla gommata Tanto bella Non c'è manco un'ora Sopra Si la palla gommata Tu ti metti Spalla 3000 litri Non c'è manco un po' inizio da te Scusa Motopala C'è stata le pale Da 10 milioni di Motopale Hai cambiato Motopale Motopale Motobadile Motopale Motobadile Motopale Un po' inizio da trince Eh No quanto ne stiamo perdendo Grego da quando sei così materialista Scusa Non volevo Non volevo Ho calcolato male gli spazi A quanto stai? 91 2 3 Ma chiudi un po' lo sportellino Che ti viene tutto Lo coso sulla cabina Non quella Scusa Un attimo che passo Ma che ho fatto Un danno? E ti ti rende un colpo Ciao Simo Ah no mi sono dimenticato E' la beggiata Cos'è questo carretto Mi sono dimenticato E' la beggiata Simo Posso disegnare un bene In mezzo al campo Grego da 10 milioni Io voglio capire cosa per me Cosa vuole fare Simo? E' uguale Un ladro Vai vai cammina cammina Tu Così tu hai giusto sportellito Che mi hai detto prima? Si con lo sportellito Sopra la cabina E invece hai chiuso quello dietro E se no Sarà aperto dietro Allora Non si fa più la portiera di fianco Ecco Si Ecco uscito il tiro tutto da dentro Cioè lo sportellino sul tetto aperto Quello dietro e la portiera Io penso che quando fai trinciato vorresti avere tutto chiuso Più chiuso del mondo nella realtà Ma io sarei pure tutto chiuso Invece no no Ah aria E' rapertutto No 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 Mi raccomando Ho pulito prima Nonno Nomo logo Con l'erpici rotante La terra secca Per apri sportelli Oh Bocchileno Tredete 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 De polvere Non ce la cimano Su condocini Come le macchine Nostre della ditta Mamma mia Sono sporche Alcune di quelle macchine Penso che non abbiano mai visto Un autolavaggio No Sono sporche C'è sta uno qua Che probabilmente non l'ha mai La macchina c'è C'è come andare in carica In carica In carica In carica In carica In carica C'è lo stesso che Con gli anni Con gli anni Sono ferro Ma c'è come andare in carica In carica In carica In carica In carica In carica non è grossi e giù gli chiamati media taglia ma se in italia dopo scappolo per me non portamo un vero non è possibile timo venito anche lungo salvo e grego sa che spiagano a votare l'arroba sbicciato tutto sbicciato aspetta come che dicevo io al posto di sbicciare messo messo sbicciato non dice un altro dio mi sto sbiccato non è già un bel lato mi sono trambiato una carambella vabbè quindi ragazzi direi che per questa puntata può essere tutto veniamo per la visione Samu prima è anche riuscito a rimanere a secco tra virgolette tra parenti vabbè mi sono guardato grego poi mi si è fermato un metro com'è che non basti mi si è laggato invece no da Dan miro si sono è tutto ciao a tutti ciao a tutti ci vediamo